Forse è stata una bravata di Capodanno, comunque un evento gravissimo che ha sconvolto gli operatori della Croce Rossa di Taranto. I vetri di due ambulanze sono stati danneggiati da colpi d'arma da fuoco, forse provenienti da un fucile a pallettoni, probabilmente nella notte di Capodanno. I mezzi parcheggiati davanti alla nuova sede di Via Lago di Bracciano non sono stati utilizzati fino alla mattina di lunedì 3 gennaio, quando gli operatori si sono resi conto della triste sorpresa. Soltanto i finestrini delle ambulanze sono stati oggetto dei colpi, risparmiata la carrozzeria. I rappresentanti della Croce Rossa hanno immediatamente allertato i carabinieri della compagnia di Taranto, subito giunti sul posto per verificare l'accaduto, anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Grande lo sconcerto della presidente della Croce Rossa Tarantina, Anna Fiore, e di tutti gli operatori e i volontari accorsi prontamente sul posto. Di fronte a quello che è accaduto ci sentiamo impotenti. Io spero soltanto che le forze dell'ordine che sono qui intervenuti tempestivamente scoprano davvero i responsabili perché noi pensiamo di essere stati accolti bene nel quartiere, di questo siamo convinti, per cui siamo desiderosi di capire almeno colui il quale si è macchiato di questo reato, perché è un reato molto molto grave, contro i mezzi di 118 di Croce Rossa, quindi per noi è una cosa che ci lascia attoniti. Tanti anche i messaggi di solidarietà a partire da quello del ministro della salute Roberto Speranza e del consigliere regionale Vincenzo De Gregorio che ha parlato di gesto vile.